GF Vip, colpo di scena. Mediaset prende una nuova drastica decisione Alfonso Signorini, nuova tegola per il suo reality show. Eliminata la puntata di giovedì da Mediaset Infinity Non c'è davvero pace per il grande fratello Vip in questi ultimi giorni Difatti dopo la decisione shock presa venerdì scorso da Pier Silvio Berlusconi, di non mandare in onda la replica della puntata del giorno prima del reality show sulla 5. Ecco arrivare l'ennesimo colpo di scena Di cosa si tratta? E, stata cancellata la suddetta puntata anche dal servizio On Demand Mediaset Infinity A farlo notare è stata la pagina Instagram People TV. Dal sito Mediaset Infinity, è sparita l'ultima puntata del reality Grande fratello Vip. Mediaset sempre più sul piede di guerra. Nuova decisione scioccante La pagina Instagram People TV, dopo aver fatto notare che l'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini Il quale in diretta si è molto arrabbiato con Edoardo Donna Maria È stata cancellata clamorosamente da Mediaset Infinity. Ha anche colto l'occasione per rivelare il presunto motivo per cui l'azienda di Cologno Monzese ha preso questa decisione Secondo la suddetta pagina del social la ragione dietro questa scelta sarebbe strettamente legata alla soppressione della replica del programma sulla 5 In pratica le troppe parolacce e volgarità di vario genere avrebbero fatto propendere Pier Silvio Berlusconi a prendere questa decisione dura, ma a quanto pare inevitabile Le troppe parolacce e volgarità del programma hanno ottenuto, per la prima volta, una vera e propria punizione Ovviamente sui social c'è già chi ha dichiarato di appoggiare pienamente questa decisione, mentre altri non hanno affatto gradito Anticipazioni GF VIP puntata stasera? Rapporti burrascosi tra le coppie Nonostante tutte le decisioni prese da Mediaset in questi ultimi giorni nei confronti del reality show condotto da Alfonso Signorini si fa presente che la puntata di stasera andrà regalmente in onda Cosa succederà? I N base alle anticipazioni riportate dal portale televisivo tvblog.it ampio spazio, verrà dedicato ad Oriana Marzoli, e Daniele Dal Moro e dall'altra coppia composta da Antonella Fiordelisi, e Edoardo Donna Maria Di fatti le compiette hanno avuto momenti complicati ultimamente, e Signorini vuole vederci chiaro Ma non è finita qua perché stamattina Federica Panicucci, ha anche anticipato che ci sarà una dolce sorpresa per Daniele, che ha dubbi sulla sua storia con Oriana Ci sarà inoltre una sorpresa per Nikita Pelison, che avrà modo di fare una lunga chiacchierata con la sua migliore amica Giulia Insomma pare davvero ci siano tutti gli elementi giusti per tenere incollati gli spettatori al teleschermo fino a tarda notte Ma non è inoltre un